SIGEP 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Agrumarie Siciliane, un'azienda di Palermo che esporta il prodotto che realizza in tutto il mondo ma è molto presente nella sezione Breakfast in tutta Italia un'azienda che realizza succhi concentrati naturali per la prima colazione ma non solo ce lo facciamo dire da Davide Boccolini che è il direttore commerciale dell'azienda. Davide benvenuto. Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo qui al SIGEP proprio per presentare, per dare una continuità a quello che abbiamo fatto nel 2019 a Ost. Il nostro business principale è ovviamente la colazione con i succhi naturali spremute d'arance che potete apprezzare in tutti i migliori hotel della nostra bella Italia. Ma oltre a questo abbiamo lanciato nel 2019 ad Ost questa linea di polpe e di sciroppi a marchio Upgrade. Nel 2019 siamo partiti ma nel 2020 e nel 2021 sappiamo cos'è successo. Siamo ripartiti quasi nel 2022, nel 2023 vogliamo ancora rilanciarci. Ecco, noi li troviamo alle nostre spalle ed è la linea che avete visto negli ultimi secondi mentre Davide parlava. Oggi siete qui sicuramente per rilanciare questa linea che sta avendo tantissimo successo tra tutti coloro che stanno venendo a visitare, assaggiando anche il prodotto, ma rilanciate come si dice in ambito pokeristico con delle novità. La linea si è evoluta. È verissimo, grazie dell'assist. Abbiamo lavorato sia esternamente che internamente. Cosa voglio dire? Abbiamo lavorato a livello di packaging sul prodotto e quindi con una nuova linea di bottiglie, con una nuova linea di etichette e all'interno del prodotto abbiamo cercato di percorrere la strada della naturalità per quanto sia percorribile. Cioè siamo andati su colori naturali, siamo andati su aromi naturali, abbiamo diminuito il livello dello zucchero, abbiamo aumentato la percentuale di frutta e questa è la strada che vogliamo percorrere. Cioè quella della qualità estrema in un segmento di mercato che spesso è visto con un occhio diciamo abbastanza critico quando si parla di sciroppi, di polpe, di topping. Ecco, noi vogliamo differenziarci e portare avanti quello che è un discorso di alta qualità anche all'interno di questo segmento di mercato. Davide, alle nostre spalle appunto io vedo tantissime, certo, certo, ecco, mostriamolo, tantissime altre novità. Ciò che hai appena preso, che cos'è? Che cos'è? Questo diciamo è un nostro un po' un prodotto, un prodotto a riete, un cavallo di battaglia. È molto apprezzato dal mercato perché questo è un prodotto, è un additivo e fa la schiuma nel cocktail, ok? Quando vi viene servito un cocktail a circa un centimetro di schiuma, come lo abbiamo bonificato? L'abbiamo modificato nel senso che è completamente naturale, senza albumina, quindi senza derivati delle uova ed è a prova di qualsiasi allergia. Quindi è completamente vegetale, completamente naturale. Questo è il nostro prodotto, diciamo, a riete che sta avendo moltissimo successo e che tutti ci chiedono. Davide, per poter scrivere a voi e dunque entrare in contatto con l'azienda per avere maggiori informazioni, conoscere i costi, le condizioni generali di fornitura, qual è l'indirizzo elettronico che possiamo fornire? Allora, noi abbiamo, avendo diverse linee di prodotto che si specializzano in diversi segmenti di mercato, dalla colazione al bar cocktail, dalla gelateria alla pasticceria, abbiamo diversi indirizzi. Però se semplicemente digitate agrumariariunite.com trovate tutto il necessario. Grazie, grazie per la collaborazione. A questo punto è doveroso assaggiare il vostro succo di mandarino, che è una cosa strepitosa. Lo avevamo già assaggiato nel corso di OST 2019, quando abbiamo presentato in assoluta antepriva la linea di upgrade e io ne sono rimasto innamorato. Davide, grazie. Grazie a voi e buon lavoro e buon SIGEP a tutti. Grazie a voi.